O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Potremmo sintetizzare così la colletta di questo mercoledì delle ceneri, perché stiamo per cominciare il grande cammino che ci porta alla Pasqua, cioè all'incontro con il Signore Risorto. E se mai hai camminato nella tua vita un pochino, lo sai che per camminare velocemente, speditamente, in maniera agile, devi essere un po' più leggero. E se hai fatto qualche dieta nella tua vita, sai anche che togliendoti qualcosa riesci a dimagrire un pochino. Allora, la domanda per questa liturgia di oggi è proprio questa. Che cosa devi lasciare per rendere il tuo cammino più agile, per poter essere più agile anche nel combattere contro lo spirito del male. Non pensiamo a cose strane o astruse, a piccole cose possibili. Magari dobbiamo lasciare qualche mood che abbiamo, dobbiamo lasciare qualche pensiero cattivo che non ci fa stare sereni, dobbiamo lasciare qualche relazione che non ci permette di essere liberi. Ognuno di noi ha il suo digiuno da fare. Questo ci serve per poter davvero combattere lo spirito del male e andare incontro al risorto con serenità, con gioia. Mi colpiva una cosa del messaggio della Quaresima di Papa Francesco, che dice così. La Quaresima è un tempo di conversione, è tempo di libertà. E il deserto è lo spazio in cui la nostra libertà può maturare in una personale decisione di non ricadere schiava. Di cosa siamo schiavi? Approfittiamo in questa Quaresima per liberarci da tutte quelle cose che non ci permettono di essere pienamente noi stessi. soffriremo un po', sicuro, però poi la gioia con il risorto ricolmerà e ricompenserà ogni sacrificio. Allora buon cammino di Quaresima.